Alla fine degli anni 90, durante un congresso in Giappone, un nostro tecnico ha conosciuto questa mela gialla, molto saporita, molto croccante e abbiamo ritenuto che potrebbe essere per noi un'alternativa, diciamo, a altri frutti gialli. E abbiamo ritenuto anche incominciare una trattativa con le autorità preposte giapponesi per vedere se potevamo testare questa mela in Europa e soprattutto chiaramente in Alto Adige, nella nostra zona. Nel 2006 abbiamo piantato la prima piantina al centro di consulenza Leinburg e pian piano abbiamo visto che questo potrebbe essere una buona opportunità per i nostri coltivatori. È una mela che va coltivata, diciamo, all'altitudine di da 400 a 900 metri oltre il livello del mare. È una mela molto saporita, molto succosa. Penso che sia sicuramente una mela che può far strada nell'alto livello premium. Noi presidiamo in questo istante la nostra novità, la seconda mela gialla che sarà sul mercato, oltre alla nostra Golden, che è la Shinano Gold. La Shinano Gold è una varietà giapponese con un aroma caratteristico, croccantezza, molto bella gialla. Si chiama come nome commerciale, avrà il nome Yellow. E c'è anche la delegazione giapponese stessa qui che ha un onore di avere questo tracciamento fra Nagano e sui Tiroli. Grazie. Grazie a tutti.